Salve a tutti, salve a tutti, salve a tutti. Buonasera a tutti, sono Alessandro Ristori, sono Alessandro Ristori, sono Alessandro Ristori, Alessandro Ristori. Salve a tutti, sono Alessandro Ristori e oggi sono qui per parlare fondamentalmente della mia esperienza di vita. Tutto lo riconduco alla spontaneità, perché la spontaneità perfetta è quella del bambino. Io ero un bambino quando per la prima volta all'età di 4-5 anni ascoltai Rock Around the Clock di Bilale and the Comets. Oggi però siamo qui per parlare di rock and roll, quel genere musicale, quello degli anni 50, che a un certo punto mi ha fatto capire che la mia vita sarebbe stata diversa. È difficile spiegare quello che uno sente quando viene preso letteralmente totalmente dal pianeta musica. E vi assicuro che quell'elettricità, quell'impulso, quella bomba che è scoppiata all'interno del mio sistema corpo è ancora viva oggi come allora. La corrente elettrica che passa all'interno del filo di rame, una scarica, un qualcosa che mi diceva che io a quel punto avrei dovuto iniziare a muovermi. Se tu balli, balli perché senti di dover muovere il tuo corpo. Fai e basta. Devi usare la spalla piuttosto che lo sguardo o il sorriso giusto. Non puoi stare fermo. L'impulso è tale che tu muovi un braccio, muovi una gamba, dai un calcio, però sei sempre sicuro di fare la cosa giusta. Credo di avervi detto quasi tutto. Non voglio aggiungere altro, non voglio essere un maestro di vita. Ascoltate musica, muovetevi come pensate sia meglio muovervi. Farete sicuramente un ottimo lavoro. Arrivederci.